Si è svolta oggi l'Assemblea dei Soci della Riviera Trasporti con l'approvazione del bilancio di esercizio 2015 che chiude con un utile di 93.427 euro. L'Assemblea odierna è servita anche a fugare i dubbi sulla continuità aziendale e quindi sull'erogazione del servizio di trasporto pubblico svolto dalla società. Dubbi che avevano reso necessaria la richiesta, deliberata ieri dal Consiglio Provinciale, di un attento e continuo monitoraggio della gestione. Il collegio sindacale è stato rinnovato all'insegna del risparmio, stabilendo il dimezzamento dei compensi dei suoi componenti nell'ottica di un ulteriore alleggerimento dei costi aziendali. Da parte della Regione Liguria non c'è stato alcun taglio negli stanziamenti all'RT, ma anzi la conferma delle risorse per complessivi 117 milioni di euro a livello regionale destinati alle singole aziende di trasporto pubblico locale, tra cui appunto la Riviera Trasporti, rispetto allo scorso anno, ha detto l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino, rispondendo in merito al buco di bilancio della Riviera Trasporti di circa 3 milioni di euro che sarebbe dovuto a presunti tagli da parte della Regione. In particolare abbiamo stanziato circa 2 milioni di euro per consentire a RT l'acquisto di bus a idrogeno, ha aggiunto Berrino. Inoltre abbiamo dato all'azienda un anticipo di 650 mila euro della propria quota di fondino destinata al pensionamento del personale per consentire a RT di mettere in ordine i propri conti e riprendere fiato. Critiche sono invece giunte dal Movimento 5 Stelle. L'assessore Berrino si vanta di aver stanziato 2 milioni per 3 nuovi bus a idrogeno a Imperia, è infatti intervenuto il portavoce dei pentastellati Marco De Ferrari, ma si dimentica di ricordare che a causa di questa decisione gli imperiesi avranno soltanto 3 dei 14 nuovi bus a trazione tradizionale, quindi a minore impatto rispetto agli usurati mezzi su cui sono costretti a viaggiare utenti e autisti. Soddisfatto si è infine invece dichiarato il presidente della provincia d'Imperia, Fabio Natta. Si tratta di un risultato che segna una significativa inversione di tendenza rispetto al passato, che era caratterizzata da pesanti perdite.